Un buon primo tempo, poi poco. Un buon primo tempo, anche il quarto dall'inizio del secondo tempo, dove la squadra ha interpretato bene la partita contro una squadra di valore, nel momento in cui poi magari l'occasione più clamorosa per passare in vantaggio non la si sfrutta, è chiaro che poi diventa difficile cercare di portare a casa un risultato contro queste squadre. Soprattutto il rammarico per aver subito un gol sulle situazioni di calcio d'angolo, dove sapevamo dei centimetri di questa squadra. Quindi il rammarico soprattutto per quello. Dopo il gol però non c'è stata reazione, anzi ci siamo allungati e la partita è finita lì. Sei chiesto, te lo chiederai in questi giorni, perché nel secondo tempo il Parma ha così tanti problemi a chiudere le partite? Nel senso, mi sembra che sia la squadra che ha perso più punti nella ripresa. Nel momento in cui tieni la partita in equilibrio per un'ora e prendi un gol su una situazione di calcio d'angolo dove ci sono tre giocatori che quando si vanno a fare le marcature vuoi per forza di cose che da qualche parte devi concedere, perché strutturalmente avevamo bastoni che potevano competere a livello di centimetri. Non posso stare a colpabilizzare gli altri dove vanno a marcare dei giocatori dove hanno 20-30 centimetri di differenza. Quindi il rammarico è su quello. È chiaro che nel momento in cui poi loro passano in vantaggio su una situazione di palle nativa, perché fino al sessantesimo non credo che ci siano state tutte queste palle col clamorose, nonostante le potenzialità di una squadra come la Roma, quindi il calcio non è così semplice. È chiaro che nel momento in cui poi vai sotto non è facile contro una squadra dove ci sono giocatori di gamba, come gli esterni, riportare a casa un risultato dove a livello numerico abbiamo solo un centro avanti che la fa 12 lavori in panchina per aumentare il potenziale offensivo. Ecco, la scelta dei tre leggeri davanti senza inglese? L'ho appena detto, perché quando si prepara una partita si pensa a tutte le situazioni che possono accadere. Nel momento in cui avessi fatto partire, c'eravo dall'inizio, lì dove ci fossimo trovati sotto non avevo nessun centro avanti per aumentare il potenziale offensivo. Quindi ho cercato di sfruttare le caratteristiche di giocatori di gamba, come vi è venì e Gervinio, con Luca che ha lavorato tra le linee, sapendo che la Roma è una squadra che è molto brava a portarti la prima pressione in fase di costruzione, dove magari ti può concedere qualcosa a livello di campo aperto. C'è stata una situazione clamorosa dove non siamo stati bravi a sfruttarla, ma credo che ci siano state anche altre possibilità per cercare di andare a creare quelle situazioni dove siamo stati sporchi a livello di passaggio di verticale e di qualità, tecnicamente parliamo. A proposito di questo, dell'ultima cosa che hai detto, la mancanza di Scozzarella si è sentita parecchio. Il giocatore che nella costruzione del gioco vi ha dato tanto nell'ultimo periodo in cui ha giocato. È inutile stare a parlare degli assenti, è chiaro che regalare per quanto riguarda la nostra rosa, giocatori come Inglese e Scozzarella, qualcosa perdi. È chiaro che Leo ha delle caratteristiche diverse, magari è molto più bravo in fase difensiva, credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Una situazione per passare in vantaggio ce l'abbiamo avuta, è chiaro che poi sono gli episodi che dobbiamo essere bravi e portarla dalla nostra parte. Sono tre partite consecutive che in casa abbiamo la possibilità di passare in vantaggio e non ci siamo riusciti. È chiaro che dobbiamo lavorare su quello, sul migliorare, sull'aspetto tecnico, non pensare agli assenti perché tanto da quando sono arrivato siamo abituati a lavorare con gli assenti. Indipendentemente dalla statistica a cui faceva riferimento dove è il secondo tempo, può esserci stata oggi anche un appagamento figlio del momento, molto positivo della squadra, la bellissima vittoria di Firenze, che vi ha proiettato in una situazione di classifica tale per cui dopo un gol subito la squadra può essersi sentita anche un po' appagata nella ripresa. Assolutamente, perché per 60 minuti la partita è stata interpretata con la giusta determinazione, con la giusta cattiveria. Dopo il gol subito c'è una problematica che di fronte abbiamo una squadra forte con la Roma dove tu devi ribaltare il risultato e chiaramente è una problematica che noi abbiamo avuto, quasi sempre avuto, a parte la partita con il Genoa, bisogna considerare i valori delle squadre. Non basta solo il pensiero di ribaltare la partita, ci vuole anche della qualità, della struttura, una forza anche mentale. È chiaro che sotto questo aspetto a livello di personalità qualcosa oggi è mancato, ma di fronte a una squadra forte come la Roma, che magari lì dove tu tieni la partita in equilibrio, dove tieni le distanze giuste, possono avere delle difficoltà. Nel momento in cui passano in vantaggio e di conseguenza hanno più spazi e più campo da sfruttare, diventano devastanti. Mister, buonasera. Se vi consentite esco un attimo dalla partita per chiederle un'immagine di questo 2018 straordinario per il Parma. L'immagine di De Versa, Spezia, entusiasmo ritrovato dello stadio contro la Juve, Vittoria di Milano. Qual è l'immagine del 2018? Un po' tutto. È chiaro che in questo momento c'è il ramarico e il dispiacere per non aver concluso quest'anno dando un risultato positivo al pubblico dentro casa. C'è rabbia, ma per quanto riguarda quello che si è fatto nel 2018, come ho già detto ieri in conferenza stampa, questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Quindi quello che dobbiamo fare adesso, come diceva giustamente Luca, è di non sentirci appagati, staccare perché si sono meritati queste vacanze e di ritornare carichi perché la Serie A nasconde degli insidie allucinati. Quindi quello che dobbiamo fare è rientrare per i carichi, consapevoli del fatto che per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, c'è da intervenire e da continuare a studiare e a lavorare. C'è una curiosità, da appassionato di calcio più che altro. Noi abbiamo visto con la Roma, per esempio, due squadre che sono vicine in classifica come Sassuolo e Parma, due partite completamente differenti. Ma Sassuolo ha cercato di fare una partita e si è scoperto molto e la Roma ha vinto così. Il Parma ha cercato di fare una partita diversa, molto attenta in fase di non possesso, e poi la Roma ha vinto lo stesso. Con questa squadra che lei ha, questo è l'unico modo, secondo lei, per cui si può fare calcio? Non riesce a pensare a una squadra che possa essere anche un po' più offensiva, con i giocatori che ha a disposizione? Ma oggi, sinceramente, mancano un centramanti di ruolo, dove è molto importante per far gioco quello di uno stato Giego, perché nel momento di difficoltà spesso i volentieri si appoggiano a Giego per salire e per guadagnare campo. Se lei mi parla della partita di oggi, chiaramente è normale che l'abbiamo dovuto interpretare considerando i pregi e i difetti della Roma e considerando chi io avevo in campo. Però se vado ad analizzare un po' tutto il campionato, c'è l'etichetta, perché in Italia ci piace etichettare. Non mi sembra che noi con la Juventus in casa abbiamo fatto una partita di ripartenza, non mi sembra che a Torino abbiamo fatto una partita di ripartenza, non mi sembra che a Giovin abbia fatto una partita di ripartenza, però adesso da aversi l'etichetta del catenacciano, bello, il calcio italiano è bellissimo, e gli altri invece del bel calcio. Io parlo per me, io cerco di interpretare, i miei ragazzi cercano di interpretare per portare a casa dei risultati. E se si pensa a quando è stata costruita questa squadra, che una settimana prima che iniziassi il campionato non sapevamo se facevamo il campionato di Serie B o di Serie A. Con tutte le difficoltà, ed è stata brava la società del direttore sportivo, ad oggi avere 25 punti, il calcio nostro è bellissimo. Senti, lascia stare quest'ultimo argomento. No, non è l'ultimo, il fanno è una costante, ma nasce da qui, non nasce da fuori, nasce da qui, è la costante. La mia domanda però riguardo alla conferenza fino alla penultima domanda. Domanda, posso aggiungere una domanda, quanti giocatori il Sassuolo aveva che l'anno scorso facevano la Serie B? Grazie. Allora, lasciando stare l'ultima cosa, non ti ho mai visto però così arrabbiato dopo la sconfitta, al di là dell'argomento questo. Perché ci tenevamo, ripeto, nonostante abbiamo fatto qualcosa di straordinario, a portare a casa un risultato positivo. Sapete che io non ho un bel rapporto con la sconfitta. Noi viviamo per cercare di fare dei risultati, no? E credo che questi ragazzi avrebbero meritato oggi per quello che hanno fatto per circa 60 minuti, di portare a casa un risultato, consigliere un risultato di vittoria. Però credo che il ramareco ci deve essere, no? Che noi abbiamo perso una partita, principalmente per una situazione di calcio d'angolo. Quindi quello ci deve rimanere dentro. Per chi vuol far calcio è chiaro, si è soddisfatti per quello che si è fatto, ma non si può essere contenti oggi che si è perso contro la roma, indipendentemente dal fatto, che se si va ad analizzare le due rose, è chiaro che sono nettamente superiori. Però il calcio è bello anche per questo, perché lì dove ti sono superiori, il calcio a volte dimostra che si combatte neanche una squadra superiore. Mister, 12 punti in trasferta contro i 13 in casa. È una squadra che si trova meglio fuori casa? I numeri in questo momento dicono questo, questa domanda mi è stata rivolta anche ieri. È chiaro che nelle ultime tre partite casalinghe pesano molto il fatto che col Chievo non abbiamo vinto la partita, dove c'è stata una circostanza di un palo, quindi roba di centimetri. Lo stesso col Bologna abbiamo avuto una palla clamorosa sullo 0-0 per passare in vantaggio a porta vuota, anche oggi, ma non per colpolarezzare chi si è trovato in quella circostanza. È chiaro che gli episodi, come siamo stati bravi a Firenze, in una delle poche circostanze a sfruttare e a portare a casa il risultato pieno, dovremmo essere altrettanto bravi di farlo anche dentro casa. Allora, l'inglese contro la Fiorentina ha fatto, già nell'intervallo si era parlato di sostituirlo, poi è stato bravo e ha stretto i denti e ha fatto tutta la partita e credo che ha fatto meglio il secondo tempo che il primo tempo. Nel giorno successivo, nel defaticante, è rimasto fermo perché aveva un problema sull'adduttore, uguale ha saltato la rifinitura perché oltre ad avere un problema l'adduttore ha avuto un'influenza, quindi nella convocazione non l'ho convocato perché aveva anche l'influenza e oggi era vedere la partita, quindi questa influenza così grave da non farlo conto mi sembra un po' strano, però principalmente aveva un problema all'adduttore dove lui per finire la partita ha stretto i denti e ieri sera comunque ha avuto una forma influenzale dove chiaramente l'ho lasciato a casa e non l'ho fatto venire. Buonasera a tutti, tanti auguri di buona anno a tutti.